Tre baseleghe. Non è escluso vi sia un atto intimidatorio all'origine dell'incendio scoppiato attorno alla mezzanotte di oggi in un'officina di via Sant'Ambrogio 131. Le fiamme hanno letteralmente distrutto una Mercedes classe E320 di proprietà di una 49enne che aveva lasciato in consegna il mezzo all'autofficina incaricata di effettuare alcuni interventi. Oltre ai vigili del fuoco di cittadella sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che indagano ora su un possibile gesto intimidatorio contro i titolari dell'autofficina stessa.